Musica Amici di Atisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri della Palla a Nuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi insieme a noi il tecnico del Cus Palermo, Gian Piero Occhione. Mister, benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Andrea e un saluto a tutti. Partiamo dall'ultimo impegno. Quale eredità vi lascia la sconfitta incassata nel derby contro la Copra al Muli Antichi? Beh, un'eredità un po' scarna, nel senso che la squadra dopo un mese che non giocava ha avuto le sue difficoltà e non giocavamo nemmeno in allenamento perché tra infortuni e covid ci siamo trovati più di un mese a essere in 7-8. Quindi le squadre di Palermo, le altre che avevano anche delle situazioni di covid hanno previso non giocare. Quindi noi siamo stati quasi un mese senza giocare e senza poter provare. Quindi questo ci ha messo in grandi difficoltà e sapevo benissimo che questa partita fuori casa con i Muli Antichi sarebbe stata una partita da scontare con un daccio, insomma, non da poco. Quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può e deve ancora migliorare? Diciamo che questo gruppo deve migliorare molto sulla verticalità. Io ricordo a tutti che siamo una neopromossa con molti giocatori che stanno giocando per la prima volta in O2. Abbiamo dei pezzi da 90, dei giocatori invece che vengono dalla Serie A1. come Iuricic e Galioto, però il grosso della squadra è un gruppo che deve migliorare molto sulla verticalità. Certo. Che cosa ha detto ai suoi ragazzi a fine partita? Beh, nulla. Perché la partita è stata abbastanza eloquente. Oggi alle 7.15 abbiamo riunione. Ho mandato il link della partita, quindi affronterò l'argomento stasera, in riunione. e valuteremo gli errori che abbiamo fatto per migliorarli, ma sicuramente dobbiamo lavorare molto in acqua per cercare di migliorare su alcune fasi delle tecniche anche individuali che poi diventano col gruppo collettive, dove però siamo un po' carenti. Il fatto di non aver giocato e essere stati in 7 per un mese sicuramente non ci ha aiutato. Quante partite ci vorranno per tornare in carreggiata dal punto di vista del ritmo partita e della condizione? Questa è una bellissima domanda. Ne avrei bisogno di qualcuna in più, ma non ce l'abbiamo, perché sabato andiamo a giocare contro il Tuscolano ed è uno scontro diretto fuori casa importante e poi c'ho l'acqua chiara in casa. Queste sono due partite importantissime per la nostra salvezza, quindi devo far fronte alle necessità di virtù, quindi questa settimana devo svegliare il gruppo dal punto di vista psicologico e farli uscire da questo intorpimento e poi questi 5-6 giorni devo trovare un'acqua. Certo. Sabato l'ho accennato lei e vi attende uno scontro diretto fondamentale in casa dello Sporting Club Tuscolano. Che partita sarà quella del foro? Beh, è una partita ostica, è una partita difficile. Uno per il campo, perché il Foritalico io ho avuto la fortuna di giocarci per circa 20 anni, non è un campo facile. Due perché il Tuscolano deve vincere assolutamente, noi non andremo là per perdere, quindi sarà una partita dove chi sbaglia meno potrà averla vinta. Certo. Quali fattori risulteranno decisivi per portare a casa la vittoria? Sicuramente chi sbaglia meno, ma penso anche qualche altra cosa. Non le chiedo di svelare il piano tattico, ecco, però. No, no, allora diciamo che noi sicuramente dobbiamo, come ho già detto, migliorare sulla verticalità, migliorare sull'uomo in più, ne prendiamo tanti, siamo una squadra che produce molto gioco, in difesa abbiamo degli elementi molto validi, abbiamo un portiere fortissimo che è Juricic e sabato ha dimostrato tutto il suo valore. Noi dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più sfrontati nell'affrontare gli avversari, sapendo che quando il Cus è con squadra anche molto forti come Florenzia e come Canottieri, giocando fuori casa abbiamo ben figurato, giocando una buona palla a nuoto. Quindi il gruppo ce l'ha già dimostrato, dobbiamo solo rispolverare quella verde, quella grinta che avevamo prima di questo blocco di partite che ci hanno fermato e a ritornare a avere quella mentalità che questo mese ci ha fatto un po' perdere. Che cosa significherebbe tornare dalla capitale con la conquista dell'intera posta in palio? Sicuramente per noi sarebbe mettere un'ipoteca importante nel salvarci senza i play-out. Noi però abbiamo fatto più partire fuori casa che in casa e abbiamo giocato con le squadre diciamo tra le prime quattro in classifica. Vincere col Tuscolano ci darebbe la possibilità di uscire prima possibile da una zona che potrebbe diventare calda. Quali sono, chiudiamo, più che chiudere, mi permetto un'altra battuta, quali sono gli errori che proprio non vuol vedere in acqua sabato? Diciamo il fatto che spesso cade la palla dalle mani, siamo lenti nel valutare la situazione, quindi nel capire, nell'analisi di quello che si deve fare, perdiamo qualche secondo in più, spesso siamo facilmente individuabili in quello che si sta facendo. Ancora ci manca quella velocità di esecuzione della categoria che in alcuni momenti e spesso i giocatori sono stati anche capaci di mettere in evidenza, ma che in questo momento si sta accentuando un po' questa lentezza dettata a un mese di lavoro isolato e quindi dobbiamo subito recuperare questa brillantezza. Chiudiamo con un'ultimissima battuta. Come valuta la crescita dei giovani nella sua rosa dall'inizio del campionato fino ad oggi? Io secondo me ho dei giovani interessanti, ancora molto inesperti e devono fare un percorso ancora molto molto lungo. Li stiamo correggendo su quelli che sono i loro errori continuativi, cercando di migliorarli, però secondo me sono dei giovani che possono crescere, non si cresce in una stagione, ci vogliono magari più anni, cerchiamo di bruciare le tappe. Sabato ora, non perché sia mio figlio, ma Giorgio Occhione, è stato uno di quelli che bene o male è riuscito a dare una mano, un contributo, nonostante abbia solo 16 anni. Però abbiamo anche Cesaro e Raineri che possono crescere con un duro lavoro. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Gian Piero Occhione per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Arrivederci, mister. Grazie, Andrea. Un abbraccio a tutti. Un boccalupo a tutti. Arrivederci. Ciao.